Che cos'è una multinazionale? Una multinazionale è un'azienda di grandi dimensioni che ha le proprie sedi produttive o fabbriche sparse in vari paesi del mondo. Una multinazionale è attiva in diversi settori produttivi e ha spesso un fatturato elevatissimo. Qual è la struttura tipica di una multinazionale? Vi è una società detta società madre la cui sede si trova in un paese ad economia avanzata come gli Stati Uniti, il Giappone, i paesi dell'Europa occidentale. La società madre controlla tutta una serie di altre società dette società figlie che sono dislocate in vari paesi del mondo e spesso anche in vari continenti. Le società figlie sono localizzate per lo più in paesi la cui economia è arretrata. Cosa fa una multinazionale? Come opera? Innanzitutto acquista le materie prime direttamente dai paesi produttori dove si ottengono i prezzi più bassi. Effettua le varie fasi della lavorazione dove i costi della mano d'opera sono più contenuti. Le fasi della produzione che richiedono un elevato impiego di mano d'opera non qualificata vengono svolte nei paesi poveri dove il costo della mano d'opera è più basso mentre le fasi della lavorazione che richiedono l'impiego di tecnologie avanzate sono svolte nei paesi industrializzati dove è più facile reperire mano d'opera altamente specializzata. La direzione delle società che fanno capo alla multinazionale, i centri decisionali e finanziari rimangono sempre nelle grandi città dei paesi più avanzati. Spesso il fatturato delle multinazionali è superiore rispetto al prodotto interno lordo di molti stati anche di notevole importanza. Per questo motivo esse dispongono di una grande potenza economica ad esempio possono cogliere opportunità favorevoli ovunque si presentino trasferendo iniziative commerciali ed industriali da una parte all'altra del mondo. Possono esercitare sui governi pressioni attraverso l'offerta di creare posti di lavoro o di chiudere alcuni stabilimenti. Possono ottenere condizioni favorevoli nei costi di acquisto delle materie prime e dei servizi a discapito delle imprese di dimensioni più modeste.